Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo appuntamento del sabato. Oggi andremo a vedere come si crea nella sua totalità il volto. Abbiamo visto altra volta i suoi dettagli e stavolta andremo a comporre tutta la figura. Quindi vado alle ciance e iniziamo. Vi lascio come sempre alla voce fuoricampo. Noi ci vediamo alla fine. Ciao a tutti ragazzi, è la vostra voce fuoricampo preferita che vi parla. Allora, un po' di gente, i miei amici, mi hanno consigliato di non star lì a spiegare passo per passo perché risulta un po' troppo pesante e un po' troppo, come posso dire, distraente. Sì, forse un po' distrae. Quindi quello che vi chiedo io è di stare attenti ai miei passaggi, seguirli senza che io vi spieghi passo per passo e vedrete che anche voi riuscirete nell'intento. Magari forse neanche meglio di me. Beh, ci vediamo alla fine del video. Grazie a tutti. Ricordatevi di mettere mi piace al video. Iscrivetevi se non l'avete già fatto e commentate. Iscrivetevi se non l'avete già fatto. Iscrivetevi... seguitemi grazie a tutti 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 ben ritornati ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile vi dico già che il canale darà la stessa piega che ho avuto fino adesso ma a breve dovrebbe cambiare format perché la mia idea è quella di specializzarmi un pochettino quindi seguitemi e scoprirete come muterà il cambiamento è in fase dell'operazione altre due o tre settimane e poi porterò il cambiamento totale quindi intanto a sabato prossimo grazie a tutti Grazie a tutti.